Episodio 2 del modulo di Matplotlib, oggi vediamo come personalizzare il nostro grafico, quindi ricreiamo ciò che avevamo nell'episodio precedente, quindi andiamo a mettere quale età sulla x da 25 a 30, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e sotto andiamo a mettere sulla nostra y, non so perché l'ho copiata, andiamo a mettere dei valori randomici 100, 120, 140, 110, ne mancano due, 150 e facciamo 145, perfetto, poi vi ricordate che ci basta andare qua a fare plt.plot, molto bene, e vogliamo plottare x e y e dopodiché facciamo plt.show e se io mando a schermo il tutto, indovinate un po' che cosa abbiamo, abbiamo la nostra figure che abbiamo già visto precedentemente ed è scarna, quindi adesso impareremo come personalizzare, avere qualcosa di un po' più amichevole per la vista. Ora, cominciamo con un titolo, non abbiamo il titolo, giustamente non abbiamo il titolo, perciò ci basta fare plt.title e dentro inseriamo il nome, quindi nome del grafico, se io salvo, mando a schermo, vedete qua in alto che abbiamo il nome del grafico, semplice, che cosa potremmo voler aggiungere? Potremmo voler aggiungere le etichette per la x e per la y, benissimo, quindi le etichette le aggiungiamo con plt.xlabel e qua dentro mettiamo asse x, anzi questa sappiamo che è l'età, quindi scriviamo età, e poi se noi andiamo sotto e mettiamo ylabel, qua mettiamo valori a caso, perché non sappiamo cosa sono queste y, le ho messe letteralmente a caso, però se mi seguite non vi confondete, come potete ben notare, qua sotto c'è l'età sulla x e qua sopra ci sono i valori sulla y. Niente di incredibile. Ora vediamo come aggiungere una seconda linea ed avere perciò una leggenda. Allora nessuno ci vedete ad avere più linee, quindi possiamo mostrare più grafici e noi vogliamo quindi andare a mettere qua y1 e la nostra y2. Perché non metto x1 e x2? Perché in realtà le età sono uguali per tutti, potrei fare x1 così e poi x2 così, ma perché ripeterlo se tanto sono gli stessi valori, perciò potremmo semplicemente chiamarlo x o se ci vogliamo aiutare possiamo chiamarlo direttamente età. Fate come volete, io mantengo la x e come y2 andiamo a mettere 90, 80, 120, 150, siamo a 4, mettiamo 170 e poi 140, giusto per stare poco sotto. In nominato un po' cosa ci basta fare, innanzitutto qua dobbiamo mettere y1 e poi ci basta copiare e andare a mettere y2. Facciamo qua spazio, facciamo qua spazio per lo show, benissimo, abbassiamo questo che tanto non ci serve e se io salvo e mando a schermo abbiamo creato, vedete, un secondo plot, quindi questa riga è il nostro secondo plot. Adesso abbiamo due grafici differenti, ecco qua, abbiamo due righe, abbiamo due linee ben distinte. Come vedete ci sono colori diversi, quindi capite che già potremmo cambiare i colori e eccetera, ma quello che ci interessa al momento è la leggenda, quindi che linea mostra cosa, che colore mostra cosa. Bene, andiamolo ad aggiungere, perciò plt.legend e ci basta dare una lista di valori, diciamo che quella blu mostra i nostri valori a caso per italiani, ok, mentre invece l'altro li mostra per francesi, ok. Non so di cosa sia, ma si parla di adulti tra i 25 e i 30 anni che hanno dei valori a caso, benissimo, e il plot di y1 fa riferimento agli italiani, il plot di y2 fa riferimento ai francesi. Quindi se io mando a schermo, vedete che abbiamo italiani e francesi. Qual è il problema? Il problema è che se io riprendo il codice, dobbiamo poi ricordarci l'ordine corretto, quindi se noi andiamo a avere altri plot così, dobbiamo ricordarci l'ordine corretto. E questa cosa qua non è leggibile, obiettivamente, perché se noi qua avessimo, proviamo a copiare, no? Senza cambiare chissà quanto. Facciamo così, 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 perfetto. Adesso voi dovete capire che questo è il valore numero 4, letteralmente, quindi dovete stare qua e capire che questo è il valore numero 4. Diciamo che è di difficile lettura, motivo per cui quello che possiamo fare è direttamente andare a inserire le label qua. Perciò se noi ci spostiamo e scriviamo label, eccola qua, e mettiamo italiani e qua sotto, virgola, scriviamo label uguale francesi. Adesso è 100 volte più leggibile e il risultato sarà il medesimo. Vedete? Non è cambiato assolutamente niente, ma per noi, a livello di lettura codice, è cambiato tutto. Così è molto più facile da leggere. Qua mi ha importato label a caso, che non devono esistere. Ok, ora vediamo come aggiungere una griglia. Beh, è molto semplice. Plot.grid. Ecco qua, con la griglia, come possiamo ben vedere, ci ha aggiunto, indominato un po', una griglia. Quindi adesso abbiamo sicuramente più facilità nel vedere i livelli dei nostri valori di Y. Tuttavia, potremmo voler dei marcatori, dei marker. Quindi adesso andiamo a cambiare quelle che sono le impostazioni delle varie linee. Perciò noi chiudiamo. Ci posizioniamo sul nostro plot e mettiamo innanzitutto il colore. Quindi color. Possiamo usare esadecimali, così come possiamo usare colori tipo red. Vi faccio vedere. Quindi se io mi sposto qua, ah, giustamente devo mettere la virgola. Se io mi sposto qua e faccio colore red per uno e colore 21, 21, 21, dovrebbe essere quasi nero. Benissimo, quindi facciamo play. Vedete? Sono cambiati i colori delle linee. Quindi quasi nero, 21, 21, 21 e rosso. Vedete che possiamo utilizzare entrambi i modi. Benissimo. Ora vogliamo andare a dare una dimensione ad una e uno stile linea ad un altro. Perciò è virgola line width. Line width non ce lo suggerisce, ma non è un problema. Line width mettiamo 5 in modo che possiate ben vedere la differenza. E poi qua mettiamo line style. E dovrebbe essere dotted. Oppure qua in alto per il dash utilizziamo doppio dash. Dovrebbe prendermelo. Riproviamo. Perfetto. Allora, che cosa abbiamo visto? Che cosa vediamo in questo grafico? Innanzitutto vediamo che la grandezza della linea rossa è aumentata. Vedete? L'ho fatta di 5. E poi possiamo notare due cose. Che lo stile, lo line style, il line style delle linee è cambiato. Ho messo dot per avere i puntini e poi ho messo i due dash, i due trattini per averla tratteggiata la riga. Se non mettete niente chiaramente ve lo toglierà. Mi raccomando, guardate la documentazione per tutta sta roba. Io non ve li cito tutti perché sono veramente tanti. Perciò poi se avete bisogno scrivete matplotlib, line style, documentation, automaticamente vi esce tutto e controllate. Se stessimo qua a guardare qualsiasi cosa ci vorrebbero ore. Queste cose qua le voglio fare più che altro nel corso avanzato dove stiamo lì letteralmente dieci ore a vedere tutto matplotlib fino all'ultima virgola. Direi che per cominciare sapere se potete farla dash dot e via discorrendo è abbastanza inutile. C'è la documentazione per quello. Perciò chiudiamo e vorremmo aggiungere dei marcatori, ovvero dei marker. Quindi proviamo a togliere questo qua e togliamo anche la line width. Benissimo. E voglio aggiungere markers. Dovebbe essere così e mettiamo la O. Quindi se io faccio play, marker forse. Perfetto, era marker e non markers. Come potete vedere, abbiamo aggiunto dei marcatori per quanto riguarda la nostra linea. Perciò in ogni punto effettivo, quindi qua 100 vedete, 120, 140, 110, in ogni punto abbiamo aggiunto un marcatore. Perciò adesso sappiamo quali sono i punti effettivi della linea. Allo stesso modo potremmo qua sotto andare a mettere il punto e basta, ma poi ci sono tanti altri marcatori possibili. Vi rimando sempre alla documentazione per non buttarvi addosso troppe informazioni. Vedete che col punto invece abbiamo un marker più piccolino, meno invasivo. Lo preferisco onestamente con la O. La O di base fa il suo mestiere ogni volta. Benissimo. E abbiamo visto anche i marcatori. Arriviamo invece a vedere lo stile del grafico nel suo insieme, perché così l'abbiamo modificato noi a mano. Però dovete sapere che ci sono degli stili già predefiniti e io non so perché mi ha importato markers così randomicamente. Ogni tanto Python fa quello che vuole. Possiamo andare a utilizzare degli stili prefissati. Quindi perciò noi prima li mandiamo a schermo e facciamo un bel print, ve li voglio far vedere tutti. plt.style.available, che vuol dire disponibile. E se noi mandiamo a schermo, senza mandare lo show di questo che non ci interessa, guardate un po'. Ecco qua la lista degli stili disponibili. Abbiamo classic, dark background, fast, 538, ggplot, grayscale, seaborn, seaborn bright. Come potete vedere abbiamo veramente tanti tanti stili che possiamo utilizzare. Perciò proviamo a utilizzarli, questi stili. E anziché rimandarli a schermo, vogliamo andare a fare plt.style.use. E qua dentro ci mettiamo il nome dello stile. Quindi io vado qua, rimetto lo show, e intanto ce ne salviamo un altro. Beh, classic è abbastanza facile, potremmo, seaborn me lo ricordo, potremmo prendere 538, così ve li faccio vedere differenti. Ecco qua, vedete? Dark background, credo si veda la differenza di stile. Allo stesso modo, ci mettiamo qua su 538, perfetto, eccolo qua. Vedete? Ci sono un po' di stili, possiamo usare classic. Oddio, mi sa che classic è lo schifo di prima, forse. No, bruttino, però sicuramente meglio di quello che avevamo prima. Oppure possiamo avere seaborn, seaborn, diciamo così. Ecco qua, già meglio, abbiamo qualcosa di un po' più apprezzabile. Come potete vedere, possiamo tranquillamente rifarci agli stili dei grafici per evitare di fare noi tutto a mano. Alcuni stili non prevedono la grid, perciò come avete visto la possiamo togliere tranquillamente. E automaticamente ce l'ha messa. Nel momento in cui l'abbiamo messa noi ce l'ha tolta, ma se la togliamo di default c'è. Quindi, attenzione a quando utilizzate gli stili, a meno che lo facciate con una certa ottica, non ha senso andare a sovrascrivere lo stile. Scegliete lo stile che vi interessa, altrimenti fate a mano. Giocate un po' con gli stili, vedete quello che vi piace di più. Noi resteremo con qualcosa, forse ggplot, fatemi provare ggplot, solo l'ultimo. Perfetto, ggplot ci sta, carino, simpatico. Bene, direi che con oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video, dove cominciamo a vedere i vari tipi di grafici. Quindi nei prossimi 5 o 6 video parleremo di grafici diversi, come i grafici a barre, gli histogrammi, le torte e quant'altro. Sostante in descrizione trovate il link per il libro ufficiale di Panda Snumpay se volete imparare queste librerie. Il link al mio secondo canale, al sito, i modi per supportare il canale e la community. Io vi ringrazio, alla prossima, ciao ciao!